Il risultato ci sta, però due gol su calcio d'angolo, se ci voleva maggiore attenzione? Su calcio d'angolo è quello che abbiamo detto fin adesso, sicuramente maggiore attenzione, la fisicità nostra è quella che è, sulla fisicità c'è poco da lavorare, sulla disposizione e sull'attenzione c'è molto da lavorare. Non c'è neanche tempo di pensarci, forse una fortuna, mercoledì subito il turno infrasettimale e si va a Cremona. Sì, sì, meglio così, quando si perde, insomma, la solita notte insonne, poi dopo da domani ci si ritrova e via, e si va avanti, bisogna dimenticare la sconfitta, non andare in crisi perché quest'anno è la prima delle partite ufficiali ma non sarà di sicuro l'ultima e non è che possiamo andare in crisi ogni volta che troviamo una squadra che comunque il Como oggi ha meritato di vincere, insomma, non si può dire niente. Gullit, non c'è stato risultato però l'affiatamento fra te e stasso sembra crescere. Sì, quella c'è, peccato per il risultato perché comunque l'importante risultato della squadra oggi è andata così, per fortuna mercoledì abbiamo subito una partita per rifarci. Dobbiamo migliorare di sicuro perché oggi forse siamo stati un po' distratti però ci sta, l'importante è capire dove abbiamo sbagliato per poter migliorare subito.